Io lo so che hai bisogno di un glow up e stavi aspettando questa guida edizione estate Magari non ti senti al meglio, magari è un periodo o no e hai bisogno di quella motivazione per risentirti te stessa E io sono qui per questo e infatti ho diviso il video in due parti Come avere un glow up mentale e due come avere un glow up estetico Che non è la parte più importante, ok? Perché tutto viene da dentro Prendete appunti perché lo so che molti di voi soprattutto mi scrivono che prendete sempre appunti Mi mandate le foto che guardate i miei video su IG e per me è veramente la cosa più bella del mondo Iniziamo immediatamente Se quest'estate vuoi essere la versione migliore di te e vuoi tutti i consigli per diventare la persona migliore di te O comunque hai bisogno di quella motivazione, di quei consigli da sorellona Questo è il tuo video, rimani fino alla fine, ascolta veramente bene e prendi anche appunti se ti serve per ricordare Numero 1, compararsi distrugge la personalità La mentalità è importantissima Chi sei dentro, la tua energia, il tuo cuore, i tuoi valori sono chi ti rendono te stessa E inimitabile Non puoi stabilire il tuo valore in base a quello che dicono le altre persone Altrimenti il tuo valore dipenderà dagli altri E sarai debole Perché se un giorno un tizio si sveglia e dice per divertimento ti offende, tu ci crederai Mentre se da sola tu sei consapevole che hai un grande valore Qualsiasi, qualsiasi parere tossico esterno non ti colpirà mai in nessun modo E questo è sacro L'autostima si crea con l'esperienza e con la consapevolezza di essere capaci di fare determinate cose Si inizia sempre con una sorta di ansia perché magari per la prima volta affrontiamo un'esperienza Ma quest'ansia con il tempo ti porta a capire che sei in grado di fare determinate cose Il che diventa nel tempo una prova che tu hai la capacità di fare determinate cose Che non era così difficile e che semplicemente dovevi iniziare È prova dopo prova che tu crei l'autostima e la sicurezza in te stessa Ma prima di tutto, lo dico in ogni video, dovete sforzarvi in qualsiasi modo E anche io a volte, di uscire dalla nostra comfort zone Bisogna farlo se vogliamo crescere Si cresce nelle situazioni in cui non ci piacciono In primis Si cresce soprattutto dalle situazioni che in primis non ci piacciono Ricordatelo Essere soddisfatta di te stessa e di ciò che sei dentro Questo proviene sicuramente con il prendere sicura di se stesse È importante avere degli obiettivi Avere rispetto per te stessa in modo coerente Avere rispetto di te stessa ed essere soprattutto coerente Non devi fare chissà cosa ma devi avere la voglia di essere migliore Ma devi avere la voglia di essere migliore in modo salutare Che ti aiuta tantissimo E non ti devi abbattere Perché ricordati, e questo qui l'ho letto in un libro Che migliorare anche dello 0,00001% al giorno è comunque meglio di 0 Molte volte ci stabiliamo degli standard così tanto alti Il che dipende dalla persona Che poi se non vediamo che i risultati arrivano subito ci demoralizziamo Non è così Lo 0,001% è sempre migliore di 0 Ricordatevelo sempre E anche io me lo devo ricordare questa cosa Essere grati di tutto ciò che abbiamo ti porta sempre ad avere sempre più altre cose L'universo ci dà sempre di più soprattutto quando noi siamo grate e siamo soddisfatte Non è un modo che non bisogna puntare sempre in alto Ma essere grate e apprezzare ogni singola cosa che abbiamo Perché non è scontato Perché tante persone vorrebbero essere al nostro posto Tante persone, anche noi vorremmo essere al posto di tante persone Ma ricordarsi di essere grati e che ognuno ha il suo percorso E che ognuno si merita ciò che si meriterà E che tocca essere felici di quello che abbiamo È importante Altrimenti sarebbe sempre tossico per tutti E un'altra cosa Parlare bene di se stessa Se nel 2023 continui a parlare male di te stessa Cosa stai facendo? Parla bene di te stessa e credi in te Devi essere sempre grata di ciò che hai Ma ovviamente avere sempre degli obiettivi Degli obiettivi che vuoi raggiungere Tu devi essere la tua prima fan Perché se non lo fai te in primis Non ci sarà nessuno che lo farà Quanto te lo puoi fare per te Fatti complimenti quando hai raggiunto un bel traguardo Fatti un bel complimento quando ti sei sforzata di fare un qualcosa Che da tanto tempo volevi fare ma non sei mai riuscita Fattelo il complimento Dittelo che sei bella ogni tanto Perché non fa male E quando tu sei te stessa in primis una tua fan Vedrai che avrai molto più autostima Fidati questa cosa Aiuta tantissimo con l'autostima E non cercare mai di accontentare tutti Se tu in primis non sei soddisfatta Ok? Perché un sacco di volte mi è capitato di essere Di accontentare più gli altri Che pensare a me stessa E rimanevo io quella insoddisfatta Ora passiamo alla parte di glow up estetico Ok? L'occhio vuole sempre la sua parte E lo sappiamo tutte Quindi è ipocrita da dire che la bellezza estere non conta Conta fino a un certo punto Perché lo sappiamo e ripetiamocelo Che quello che tu sei dentro come essenza Come energia Come aura È quello che a lungo andare Ti farà attrarre persone O comunque è quello che importa Passiamo con questa cosa che ho scoperto Da tanto tempo Ok? Le ciglia finte Le ciglia finte cambiano lo sguardo Allora io intanto vi invidio Perché lo so che tu che mi stai guardando Avrai delle ciglia assurde di natura Sappi che te le invidiamo tutte noi Che stiamo guardando E che non le abbiamo Però fidatevi che le ciglia finte cambiano lo sguardo Io ho provato dei seri ciglia Per crescerle Però vi posso dire che la cosa Può durare più nel tempo E comprasti delle ciglia finte Nanno proprio un effetto All'occhio Al tuo viso Molto meglio Ora passiamo al corpo È importantissimo idratare la pelle Ma l'effetto glowy Dorato e brillantinato Sia post mare Che quando magari andiamo a ballare In discoteca Sulla spiaggia Io sto utilizzando Il Glow Edition Body Oil Olio corpo illuminante Con formula 100% naturale È un olio corpo illuminante 100% naturali Agita il prodotto E massaggialo fino ad ossorbimento Contiene miche naturali Che creano il glow pazzesco Che non solo nutrono in profondità Ma hanno anche un'azione antiossidante E rassodante Inoltre volevo farvi sapere Che ci sono i Freshly Days Dal 2 al 9 luglio Dove potete usufruire Di sconti Del 40% Inoltre Se usate il codice Sconto Jingle Avete un sconto Del 25% Su tutto Il sito Passiamo a questa cosa Che ho scoperto recentemente Ovvero Prova Nuovi stili Prova 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 Fino a quando Non trovi lo stile Che più ti si addice E più ti ci trovi A tuo agio E Comfortable Ti vedi E ti ci senti meglio Per esempio Mettevo dei paletti E mi dicevo Che qualcosa Non mi stava bene Ancora prima di provarlo Però poi Alla fine Provandolo Mi piaceva Mi piaceva come mi stava E mi ci trovo bene Dobbiamo essere Noi Capaci E soprattutto curiosi Di aver voglia Di provare cose nuove Di sperimentare Altrimenti Rimaniamo sempre Indietro Questo qui è il consiglio migliore Per trovare Il tuo stile perfetto Perché un sacco di volte Ricevo dei messaggi Dicendomi Jing Ma cosa potrei mettere Jing Prova 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 Fino a quando Tu ti vedi Top Continuerò a ripeterlo All'infinito Palestra 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 Se questo è il tuo segno E vuoi un segno Che qualcuno ti dica Vai in palestra Vai in palestra Lo so che Con questo periodo estivo È molto più difficile Andare in palestra Ma come la palestra Ti aiuta il cervello Anche il corpo Nessuno È importante infatti Sia per il fisico Che soprattutto La salute mentale E poi È fondamentale Prendersi del tempo Per se stessa Ok Io sono sempre In movimento In rush Sempre devo fare Le cose veloci E non ho mai E non ho mai Del tempo Veramente Per me stessa Sia non Prendendomi Quella di me stessa Con la skin care O comunque Palestra Palestra Io ho deciso Proprio quest'anno Di farmi Tutto quello che devo fare Lo faccio Però poi Almeno due Tre orette Jing E anche te Che stai guardando Questo video Chiudetevele Datevele Per andare In palestra Per prendere il giusto Tempo Per rilassarvi Tipo io vado in sauna Mi rilasso Faccio le mie cose Da sola Da sola Perché non c'è nessuno Che lo fa con me Ma non importa Perché è proprio Il tempo Per te stessa Ok Per stare in pace Per recuperare E fidati Non c'è una volta Della quale Dopo Questo momento In palestra Del mio allenamento Del mio momento spa Del mio momento sauna Io non abbia detto Quanto mi sento bene Lo voglio fare tutti i giorni Fa bene al cervello Fa bene al cuore Ti fa sentire Proprio super Super rilassato E connesso Diciamo Con il tuo cervello E con il tuo corpo Devi provare Spero che questa Guida mini guida Vi abbia dato Ispirazione Per affrontare Al meglio l'estate Perché ricordatevelo Voi potete essere Chi volete essere Noi ci sentiamo su IG Se mi volete scrivere Se siete libri Di scriverlo Mi fa piacere E niente Vi mando un bacio E vi auguro Una buona storia Ma tanto noi ci sentiremo Spesso Bye queens Peace Peace Peace